non è che vogliamo dirvi di comprare le magliette no, 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 pare brutto non siamo quel genere di persone lì noi ma no, anche perché pensa a chi continua a spammare te le mette ovunque, non ce la fai più ti mette sempre il link dovunque va bene che ci fai su due soldini però a volte è esagerare proprio come quelli che lasciano il link in descrizione e ti dicono se uno la vuole la maglietta la compra ma poi a cosa serve farle vedere la persuasione, brutta la persuasione non è che uno deve averla fissa se uno la vuole la cerca non è che li devi mettere davanti anche perché non costano poco cioè non tutti possono per me esatto è proprio sbagliato questo concetto di mettere davanti cioè farle vedere in modo è molto invasivo è invasivo è invadente, molto cattivo poi ti plasma la mente sì sì, è brutto ma non mi piace non si fa così no, non si fa così compra basta ma puoi anche mettersele sempre addosso cioè ci sono quelli che se le mettono sempre si pensano che poi che devi dimostrare quando li incontri vuoi sapere quanto è autocelebrativo avere la propria maglietta avere la propria maglietta addosso come i calciatori come se ti vantassi di cose di cosa ti devi vantare di una magliettina che ti ha fatto qualcun altro con una scrittina allora sei bravo cioè l'avessi cucita a te va bene esatto te l'avessi fatta a te te l'hai colorata a te lo vedi poi un applauso metti il link in descrizione è l'unica cosa che fai ci sono pure quelli che se le fanno stampare a qualcuno e poi se le mettono cioè neanche è loro il sito neanche hanno fatto il sito è sulla piattaforma di qualcun altro che sfiga cioè che mettono tipo le maglie su tube shop e le fanno comprare non le spediscono loro le toccassero almeno ma ci fosse della varietà tra le magliette no tutto uguale stesso logo cambia il colore il colore ma poi bianco o nero bianco o nero si sono sprecati ti capito è schifo veramente grandi oh lo sopporto l'originalità il marketing del 2017 ma si solo perché va di moda no il colore così piace a tu un po' a chi piace poi con questo logo mezzo nasa ma come sei messo ci sono quelli lì per fare l'alternativa col missilino col missilino mettici un pene e fai prima sarebbe molto più come dire la banalità la banalità e quelle stelline poi da truzzo del 2009 che ti fai sul collo io non le userei mai quelle magliette forse come pigiama forse ma neanche quello quando non ti vede nessuno sì quando dormi da solo ma poi fosse bello il canale uno dice fosse bello il canale voglio vantare di guardare quel canale infatti anche quello specialmente compri magliette di chi comunque ti piace di chi stimi ma infatti l'unico modo che hanno per vendere ma poi neanche tante due o tre è metterle ovunque stare sempre lì a dire sono le magliette scritte ma per chi ovunque sempre ma andate a perla c'è la perla con i tuoni ma funziona così no noi siamo contro basta noi non vogliamo forzare la gente e ci distacchiamo da questo tipo di marketing e siamo dei deficienti vabbè comprate le nostre magliette comprate ok basta abbiamo venduto abbiamo portato il pane a casa ragazzi va bene bravi tutti bravi bravi ragazzi bella la funzione iniziale bravi venduti bene bravi ne vendiamo mille ci arrivi ragazzi speriamo